L'incidente della mattinata di giovedì 8 luglio poco dopo le 7.30 sulla statale 26 di Ivrea a scontrarsi due vetture, una Peugeot 206 e una Volkswagen Polo. A causale sinistro potrebbe essere stato il forte temporale che imperversava in quel momento sulla zona. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, la polizia locale con tre pattuglie, i carabinieri, due ambulanze e l'elio di soccorso del 118. Ferito il giovane di 26 anni di Montalto d'Ora alla guida della Peugeot che dopo le prime cure è stato elitrasportato in ospedale a Torino, il leso il conducente della Polo, il sinistro è il vaglio della polizia locale. Grazie 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 Grazie